Salve, buongiorno a tutti, sono Francesco Verso, scrittore di fantascienza e editor del progetto Future Fiction. Oggi vorrei parlarvi di un libro particolare, si tratta di un'antologia di fantascienza cinese edita in doppia lingua, quindi con l'italiano e con il testo originale in cinese. L'antologia si chiama Nebula ed è stata pubblicata da Future Fiction alcuni anni fa, grazie anche al contributo dell'Istituto Confucio di Milano e dell'azienda cinese Storycom che ci ha supportato e aiutato a tradurre questi racconti, che rappresentano un po' una prima selezione di scrittori di fantascienza contemporanea cinese, dal inglese al italiano. Perché? Perché in un primo momento, essendo per noi una piccola realtà molto complicato tradurre direttamente dal cinese per mancanza di conoscenze, competenze e fondi soprattutto, siamo partiti da alcune traduzioni che sono state fatte dal cinese all'inglese da parte di Ken Liu, che è un ottimo scrittore e traduttore di fantascienza. Questi racconti sono molto particolari perché danno uno spaccato di quella che è la realtà cinese contemporanea e futura. Chi ha avuto la fortuna di andare in Cina ultimamente sa che si sta vivendo un periodo di grande trasformazione tecnologica dove l'innovazione è il motore della trasformazione sociale e vediamo proprio come in questi giorni tecniche e tecnologie che hanno utilizzato le autorità e le singole persone cinesi, li hanno in qualche modo aiutati a superare gravi crisi come ad esempio il coronavirus che in questo momento in Cina è in una fase di controllo molto meglio che da noi, anche e soprattutto grazie a queste tecnologie. Quindi nel libro si parla di scenari futuristici dove ad esempio le app vengono utilizzate a scopi sociali, a scopi anche di nel caso specifico di una benedizione che chiunque può chiedere a Buddha per avere i suoi favori in qualunque azione faccia ogni giorno. Il racconto di Chen Chufan che si chiama Buddagram appunto. Oppure come ad esempio nel racconto di Liu Qixin che è un autore molto noto e famoso in Cina e nel mondo, la tecnologia viene utilizzata per cercare di risolvere alcune questioni legate ai cambiamenti climatici nel nord del paese, tipicamente molto desertico e arido. Oppure ci sono storie come quella di Xiajia che parlano dell'uso degli androidi a scopo diciamo terapeutico oppure come cybernanny, cioè delle persone che aiutano infermieri o delle persone badanti che sono a supporto di una popolazione come quella cinese che è in rapido invecchiamento, tanto quanto quella italiana diciamo per intenderci. L'ultimo racconto invece è del professor Buyen che parla di come la competizione e la forte tensione che esiste nelle scuole e nelle università appunto complica molto e rende difficoltosa la sopravvivenza e la convivenza dei vari istituti che appunto competono per sfornare quanti più geni possibili e vediamo appunto anche qui una proiezione di quella che è la situazione nella Cina contemporanea. Ecco quindi vi rinnovo l'invito a leggere questa raccolta di racconti Nebula con il testo anche originale cinese. Il libro è diviso in due parti, una prima parte con il testo originale cinese e una seconda parte con il testo in italiano. Quindi vuole essere anche uno strumento per avvicinare due comunità, quella italiana e quella cinese che vivono a stretto contatto ma che appunto non si conoscono molto bene. Questo è tutto, grazie, alla prossima per il prossimo libro di fantascienza cinese. Ciao! Salve a tutti! Vorrei leggervi un breve passo di un racconto contenuto nell'antologia Nebula edita per Future Fiction ed è un racconto di fantascienza scritta da uno dei più grandi scrittori in questo momento del genere in Cina e probabilmente anche nel mondo. Si tratta di Liu Qixin, famoso per la sua trilogia Il problema dei tre corpi. In questo caso Liu Qixin ha scritto un racconto molto bello, affascinante, che si intitola Le bolle di Quan Quan ed è una storia di rapporto tra una ragazza e suo padre legata e incentrata su un problema ambientale molto vivo e molto importante nel nord-est del paese, nel nord-est della Cina, dove appunto i cambiamenti climatici e l'aridità del territorio rendono le condizioni di vita molto complesse. Vi leggo un breve passaggio. Dal momento della loro nascita, molte persone restano affascinate da una cosa o dall'altra, come se fossero venute al mondo soltanto per la gioia di quella presenza. In questo modo Quan Quan è rimasta affascinata dalle bolle di sapone. Quan Quan nacque con un'espressione apatica sul viso. Pareva addirittura piangere, come se stesse ad impianto un obbligo. Sembrava che il mondo l'avesse enormemente delusa. Fu così fino a quando, a cinque mesi, non vide le bolle di sapone per la prima volta. Subito iniziò ad agitarsi e a scalciare in grembo a sua madre, con gli occhietti accesi da uno splendore che eclissò il sole e le stelle, come se quella fosse la prima volta che vedeva davvero il mondo. Era mezzogiorno, nel nord-est della Cina, molti mesi dopo l'ultima pioggia. Fuori dalla finestra la città bruciava nel sole, gonfia di polvere. In questo mondo la siccità, anomala, le splendide apparizioni di acqua che se ne andavano alla deriva nell'aria erano davvero creature meravigliose. Che la sua figlioletta fosse in grado di riconoscere la loro bellezza rendeva felice Baba, il quale aveva fatto le bolle per lei. Anche la mamma, che la teneva in braccio, era molto felice. Aveva rinunciato all'ultimo mese di congedo parentale. Il giorno dopo sarebbe tornata al suo laboratorio per lavorare. Questo è solo un estratto. Grazie, spero che il libro possa piacervi. Ciao ciao.